Fino a qualche mese fa fare il sindaco era tutt'altro che un mestiere ambito, anzi tra scarsa retribuzione, orari di lavoro e responsabilità, soprattutto nei piccoli comuni era diventato quasi difficile trovare candidati. Oggi invece, grazie soprattutto alla rimodulazione degli stipendi, la situazione è cambiata. Lo si capisce dal numero fuori scala dei candidati in alcuni comuni, Verisiena o Campi Bisenzio, per stare alle prossime elezioni di maggio e lo si capisce anche dalla volontà sempre più larga di aprire al terzo mandato anche nelle grandi città. La discussione in Parlamento c'è e di fatto il PD e la Lega sono già sostanzialmente d'accordo, ma anche il benestare del partito dominante, fratelli d'Italia, a cui non va proprio a genio che, soprattutto nei comuni del nord, possono continuare a governare sindaci della Lega invece di candidare uomini del proprio partito. Eppure la quadra non sembra lontana e il provvedimento potrebbe rientrare nella legge che reintrodurrà le province come organi elettivi di primo livello, cioè con un proprio presidente eletto dai cittadini e una giunta. Questo scenario per la Toscana significherebbe non soltanto ridare vita a numerosi spazi politici, i cattivi le chiamerebbero poltrone, ma per quanto riguarda il terzo mandato, porrebbe le basi per almeno due ricandidature illustri nel 2024, quelle dei sindaci di Firenze e di Prato, ma sarebbero tantissime anche i comuni non capoluogo, Bagnoarripoli, Scandicci, Empoli, ma anche Piombino, Capannoli e Rosignano, per stare più grandi. Sull'ipotesi terzo mandato i diretti interessati per adesso si sono detti generalmente favorevoli, con qualche distinguo, mentre è più deciso il presidente della regione Eugenio Gianni che ne fa una questione di merito. Il limite di 15 anni per un sindaco mi sembra anche legato al far sì che chi prende in mano un progetto lo possa vedere nella fase in cui si elabora, nella fase in cui si taglia il nastro alla fine dell'opera, quindi io la troverei un'operazione intelligente. Ma è chiaro che l'apertura al terzo mandato avrebbe anche importanti risvolti politici perché bloccherebbe il domino delle candidature che riguarda le elezioni europee, il Parlamento e forse addirittura la stessa presidenza della regione, per cui qualcuno vorrebbe papabili i propri sindaci di Firenze e Prato, Nardella e Biffoni. Nardella sarà bravissimo come sindaco, come bravissimo per altre incariche a livello nazionale, internazionale, quindi non è un caso che si riferisce a lui. Poi se ci fosse il terzo mandato e lui si ricandidasse sicuramente sarebbe una bella cosa per Firenze.